ciao a tutti e benvenuti sul mio canale youtube e andiamo a vedere adesso insieme questo video di di queste friselle friselle con farina di tipo 1 e semola seguitemi allora io farò queste friselle con la farina del molino cipolla farina di tipo 1 e semola metto in autolisi le farine con una parte di acqua le friselle non devono essere tantissimo idratate quindi l'idratazione è meno del 60 per cento ok metto un altro po d'acqua poi copro e lascio mezz'ora in autolisi le friselle un tipo di pane pugliese che facevano i contadini marinai pugliesi va fatto a ciambella poi tostato in modo che si mantiene si può imbustare si mantiene a lungo si dice che queste friselle i marinai se le portavano al lavoro e le bagnavano con l'acqua di mare per poi condirle col pomodoro e buon olio d'oliva di puglia bene passato il tempo dell'autolisi spezzetto la pasta madre ci metto anche la puntina di malto e poi aggiungo ancora l'acqua che è rimasta e vado a far girare in planetaria metto anche il sale e faccio incordare un pochino una decina di minuti eccolo qua l'impasto è pronto verso l'impasto sul piano di lavoro ci metto appena un po di farina ma poca perché nemmeno serve non è appiccicoso l'impasto e lo lavoro un pochino così si lavora molto bene come vedete in alcune ricette c'è anche l'olio dentro ma io non l'ho messo lo metterò fuori nella ciotola dove dove lo metterò a lievitare lo birlo un pochino ecco qua ho messo l'olio e poi lo terrò a lievitare io ho fatto tutto in giornata perché ho iniziato la mattina lo terrò 5 6 ore il tempo che raddoppi eccolo qua come vedete è più che raddoppiato se invece fate l'impasto la sera potete fare benissimo un passaggio in frigo lo allungo un pochino ora dovrò fare i pezzi dovrò fare i pezzi da 100 all'incirca 140 grammi quindi a rotolo un pochino così e poi taglio peso soltanto il primo pezzo per vedere presto a poco come mi devo regolare e poi faccio dei cilindri che rotolo così in questo modo per formare le ciambelle ho preparato i bicchieri che metterò al centro per far mantenere la forma alle ciambelle e lungo di olio lungo di olio il bicchiere poi ho preparato la teglia con la carta forno ci metto addosso vedete la ciambella la chiudo così e poi alla fine gli ho cambiato questi bicchieri perché mi sono resa conto che erano troppo alti perché poi dobbiamo coprire con la pellicola e quindi poi sono andata a mettere quelli più piccolini sempre bagnandoli ungendoli di olio così poi sarà facile staccarli prima di infornare ok questa cosa dei bicchieri l'ho vista sul blog di fabble de sucre però se volete mettere un'altra cosa è lo stesso come vedete ho messo i bicchierini piccoli ho fatto raddoppiare di nuovo in circa due o tre ore poi tolgo i bicchieri e vado ad infornare forno caldo a 250 e dopo 5 minuti con fornato abbasso a 220 e faccio cuocere c'è voluto all'incirca 20 minuti scusate il cellulare le faccio appena dorare avete visto poi le divido a metà ancora calde e le griglio le faccio tostare nel forno la regolate di 10 minuti e anche 15 debbono asciugarsi bene senza farle bruciacchiare beh io direi che sono venute molto bene come vedete eccole qua una volta biscottate forse anche un pochino di più le rimetto un attimo dentro il forno ed eccole pronte bene adesso non resta che gustarle provarle come facevano proprio i contadini pugliesi bagnarle ma io non ho l'acqua di mare le bagno con l'acqua del rubinetto e le condisco con olio pomodoro ci ho messo anche un po' di insalata rughetta e olio buono bene amici ciao a tutti vi ringrazio della visione ci vediamo al prossimo video ciao